Papà, sai, lascio l'architettura, lascio tutto questo, ma tu sei un pazzo. La Laura c'è. Sette ore di Rick and Morty. Non possiamo iniziare a lavorare a mezzogiorno. Non ti è piaciuto Creed? No, mi piace, però io non l'associo a Rocky. No? Mi hanno anche dato il profilo. No, mi sembra un incubo. Questa vita non la voglio più fare, mo lo ho tutto. Vado a Londra. Mi dispiace. Io dormo pochissimo. Mi dispiace. Ho bisogno di intrattenimento. Erof. Madonna. Fedez, ti voglio qui. Il tempo è sempre troppo poco. Mi dispiace. Preferisco così. Uno che sta cadendo a pezzi è questo qua. Cadendo a pezzi? Sì. A me io da sempre. È uno di quei lavori che viene accettato dalla famiglia. Ah, adesso conosco una cosa nuova e quindi sono soddisfatto. Forse è meglio stoppare qua.